Ciao, ciao a tutti, bentornati o bentrovati o benvenuti sul canale. Come vi avevo promesso, oggi video degli ultimi libri che ho letto e aggiungerò anche i libri che porterò in vacanza o comunque in questo periodo estivo e che voglio leggere. Video che sarà lungo, lo so già, perché ho letto in due settimane due, quattro, cinque libri e ve li voglio raccontare. Cercherò di non fare spoiler, soprattutto di uno che mi ha sorpreso alla fine ma cercherò di non dirvi nulla che mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciuti tutti chissà come mai. E quindi, nulla, mettetevi comodi, prendete qualcosa di fresco da bere potete guardarvelo a puntate e ci facciamo un po' di compagnia prima di chiudere questa sessione di video che poi mi porterà una settimana in vacanza e quindi per una settimana non ci sarà nessun video programmato non riesco a programmare i video, non mi piace programmarli se poi non ci sono, non riesco a seguire i commenti e quindi è così, ci prendiamo una settimana di pausa dal canale. Allora, spero di non fare spoiler questo è il libro che mi ha sorpreso proprio nelle ultime pagine Allora, la seconda vita di Missy Carmichael di Beth Moray Oh, sono diventata rosa, prima era azzurro, va bene Allora, di cosa parla questo libro? Racconta di, cercherò veramente di non dirvi troppo di Missy che è una donna di 78 anni rimasta sola, apparentemente sola il marito Leo non c'è più, i due figli sono lontani ha qualche problema di relazione con la figlia e niente, si ritrova in questa casa che è una casa mausoleo praticamente da sola si arrovella sulla sua solitudine sul fatto che non ha amici, che non ha legami che non è riuscita a costruire legami di amicizia profondi quando ancora c'era suo marito lei appunto molte volte racconta nelle pagine di questo libro, di questo romanzo il fatto che si è dedicata alla famiglia interamente ai due figli, al marito che ha avuto una carriera di professore universitario e di scrittore e all'inizio mi stava anche un po' antipatica perché dico mamma mia questa si piange sempre addosso e insomma va bene, cioè ok non sei stata soddisfatta della tua vita forse ci potevi mettere una pezza sopra al momento opportuno e nulla, e in queste pagine pian pianino racconta un po' la sua vita ci sono alcuni capitoli che parlano del presente alcuni capitoli che raccontano avvenimenti di quando ancora c'era suo marito Leo una scrittura molto bella molto veloce io ho la fortuna di leggere molto velocemente quindi davvero alcuni libri li ho letti quasi in due giorni poi non dormendo la notte per il caldo mi svegliavo e continuavo a leggere e nulla, praticamente cosa succede? succede che Missy stufa di essere sola di rimanere in casa di guardare le fotografie dei suoi figli di sua nipote che gli manca tantissimo perché con il figlio e la moglie si sono trasferiti in Australia decide di uscire, di andare al parco e di fare una passeggiata e in questa passeggiata incontra delle persone incontra Angela che è una mamma apparentemente scapestrata con un figlio piccolo Otis, se non ricordo male che ricorda a Missy tantissimo suo nipote e al quale pian piano si affeziona e incontra Silvi che è una signora tutto pepe anche lei da sola ma che ha un tipo di vita molto ricco lei fa l'arredatrice e pian piano in queste uscite al parco diventano amiche all'inizio Missy pensa sempre che le richieste di queste due persone siano date dal fatto che per esempio Angela ha bisogno di una babysitter per Otis e quindi la coinvolge un po' nella sua vita e di Silvi che sembra quasi un po' inopportuna nei confronti di Missy cioè lei dà un po' fastidio che lei vuol sapere che cosa gli è successo nella vita e tutte queste cose ma arriva un momento in cui Angela chiede a Missy di fargli un grossissimo favore una sua amica che si è separata dal marito per violenza domestica e che quindi è andata in una casa dove viene protetta insomma in attesa poi di vedere come andrà a finire la storia ma questo poi lo scoprirete niente questa Angela chiede a Missy di far da babysitter al cane di questa amica all'inizio ovviamente Missy dice no non vuole prendersi cura di nessuno soprattutto di un cane non vuole raccogliere i suoi escrementi c'è una descrizione molto molto divertente che chi ha un cane sa benissimo che succede così di quando questa cagnolina che ha comunque un nome da maschio si chiama Bob ma poi a lei alla fine la chiamerà Bobby fa la cacca al parco e lei la deve raccogliere e pian piano con questo cane inizia a conoscere tante persone inizia a conoscere tante persone tante persone che al parco si ritrovano con i cani comincia a intessere si dice così dei legami di amicizia che pian piano diventano sempre sempre più forti sempre più profondi si accorge anche che forse è stata lei ad allontanare molte volte le persone o a non costruire dei rapporti così profondi che poi quando è rimasta sola non è più riuscita a portare avanti e queste persone per lei diventano importantissime diventano la sua famiglia in tante occasioni lei aiuterà questi amici e questi amici ricambieranno ricambieranno con affetto ricambieranno con la presenza ricambieranno con tanti gesti gentili all'interno di questo libro lei riallaccia anche i rapporti con la figlia che ora non ricordo più come si chiami vediamo se lo trovo senza metterci troppo tempo vabbè niente non mi ricordo il nome della figlia comunque lei riallaccerà i rapporti con la figlia e con la compagna della figlia che poi appunto diventano moglie e moglie marito e marito insomma si sposano lei viene invitata al matrimonio porterà Angela porterà Otis e porterà la cagnolina e da lì cominceranno ad appianarsi le cose un libro che mi ha sorpreso tantissimo ma nelle ultime pagine quasi mi ha scioccato bello perché fa capire che a volte la solitudine ce la creiamo noi è vero nelle persone anziane è molto più facile rimanere soli perché comunque i figli crescono perché i figli fanno la loro vita perché le amiche o gli amici magari se ne vanno e muoiono insomma ma c'è sempre l'opportunità di trovare qualcuno che ti sia veramente amico magari con un sorriso magari scambiando una parola e in questo libro appunto Missy capisce che ad un certo punto lei ha avuto un'occasione grandissima l'occasione di rivivere un'altra vita di rivivere un'altra vita con persone che lei non conosceva ma proprio grazie all'amicizia la sua casa non sarà più un mausoleo la sua casa sarà anche la casa di qualcun altro la sua casa sarà una casa aperta pronta ad accogliere e si rende conto che anche il suo cuore è pronto ad accogliere altre persone che le vogliono bene le vogliono bene veramente un libro che mi ha colpito ma non vi racconterò di più perché sennò faccio lo spoiler ma io vi consiglio di leggere perché è davvero molto bello molto ricco di sentimenti molto ricco anche di situazioni normali che noi possiamo vivere litigare con i figli tutti litigano con i figli tutti hanno dei figli che non hanno fatto quello che vogliamo noi io in primis e è un libro che però ci fa capire che c'è sempre una seconda possibilità c'è sempre una seconda possibilità anche a 80 anni e quindi questo ve lo consiglio non dico di più perché è veramente veramente sorprendente il finale che dirvi la ragazza del collegio Alessia Gazzola ve l'avevo l'ho cominciato a leggere penso quattro giorni fa l'ho già finito allora come tutti i romanzi di Alessia Gazzola che parlano ovviamente di Alice chi non conosce Alice e chi non conosce Claudio lo abbiamo visto nella serie televisiva con due attori favolosi Lino Guanciale e e devo dire che come al solito Alessia Gazzola mi stupisce insomma questa sembrerebbe sembrerebbe il finale della della serie in cui racconta dell'allieva ma forse forse non lo è allora qui troviamo un Alice e un Claudio innamorati che ritornano dall'America dove nell'ultimo romanzo appunto se ne sono andati ci sono ancora tutti i familiari di Alice c'è la nonna c'è il fratello con la moglie con i figli ci sono i genitori ci sono tutti i colleghi e c'è il solito caso su cui Alice e Claudio sono appunto invitati per lavoro ad indagare la cosa che mi dispiace è che io caspita gli ho letti tutti questi libri forse fino all'ultimo prima di vedere la serie poi vabbè chiaramente non potevo perdermi la serie televisiva e quindi io adesso prima mi ero fatta una costruzione di due personaggi anche fisicamente diversi adesso ogni volta che leggo e ritrovo i personaggi mi vedo appunto le facce dei due attori un romanzo bello c'è il giallo c'è il mistero c'è la simpatia di Alice che magari non ha più quegli atteggiamenti così ridicoli che aveva all'inizio della serie perché era proprio anche un po' grossolana nel fare le ricerche ma proprio grazie alla sua curiosità grazie alla sua sensibilità riuscirà come sempre a risolvere il caso ve lo consiglio ve lo consiglio perché come tutti i romanzi di questa serie ma non solo di questa serie come tutti i romanzi di Alessa Gazzola sono piacevolissimi scorrono veloci ci regalano momenti di serenità anche momenti romantici ultimamente e devo dire che con il fatto che appunto questo amore ormai è plateale è condiviso appunto da tutti è molto molto bello molto piacevole quindi sicuramente un romanzo che si legge in due sere come ho fatto io assolutamente consigliato bellissimo altra scrittrice di cui io mi sono innamorata e chi mi ricorda sotto tanti versi Alessia Gazzola anche se non è un paragone sono proprio due modi però di scrivere di raccontare i gialli di raccontare comunque dei misteri divertentissimi con Chiara Moscardelli voi andate sul sicuro andate sul sicuro vi fate tante risate ma c'è anche tanta simpatia tanta introspezione Chiara Moscardelli la ragazza che cancellava i ricordi di cosa parliamo? Parliamo di una donna che ha più o meno 40 anni 38-40 anni e che fa la tatuatrice questa protagonista ha un passato un passato oscuro che scoprirete man mano proprio per allontanarsi dalla dalla sua città natale sotto consiglio di suo padre che poi scoprirete bene chi è abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata dalla paura di perdere la memoria perché la sua mamma purtroppo ha avuto un Alzheimer precoce ed è morta di Alzheimer lei fa la tatuatrice bravissima è molto famosa anche se in un paesino un po' dimenticato da tutti e grazie ad un'amica che fa la prostituta rimane coinvolta in un'indagine di sparizione e di omicidio di alcune prostitute amiche di questa sua amica si ritrova così a collaborare e a essere anche indagata in questa indagine con un giornalista che all'inizio non è un giornalista viene scambiato da lei per un un equivoco come un un agente immobiliare un mediatore immobiliare alla fine poi appunto si scopre questo non è spoiler perché lo scoprirete a metà del libro che appunto non è un mediatore immobiliare è un uomo simpatico quasi a volte un po' indeciso si chiama Gabriele Pasca e all'interno di questo romanzo insomma i due si innamorano ma proprio per il passato che ha Olga lei non vuole assolutamente avere dei legami con nessuno non vuole crearsi una famiglia non vuole sapere che cos'è l'amore e alla fine alla fine lo scoprirete voi non posso dirvi altro è un libro bellissimo e anche qua è un libro che fa riflettere sul fatto che tante volte siamo noi a costruirci delle barriere verso gli altri sia verso l'amore sia verso le amicizie Olga pensa di non essere amica di nessuno pensa di non potersi mai innamorare proprio per il passato che ha vissuto e alla fine invece capirà proprio grazie a tutti gli amici che lei ha sempre avuto intorno e sul quale lei non ha mai puntato e anche grazie a Gabriele capirà che tutto questo esiste sia l'amore sia l'amicizia e che potrà vivere tutti questi sentimenti alla luce del sole un romanzo davvero delizioso riderete come non mai e piacevole veramente piacevole ve lo consiglio per l'estate come vi consiglio tutti gli altri romanzi di Chiara Muscardelli che secondo me è una scrittrice favolosa molto ironica simpaticissima con uno stile divertente anche se si sta parlando di omicidi veramente veramente bellissimo un libro che mi è piaciuto da dieci e lode con bacio in fronte come vi dico è questo di Barbara Costantin e poi Paulette e poi Paulette ma di Paulette in questo libro non si parla si parla nelle ultime pagine e che cosa ci racconta ci racconta di Ferdinand ambientato nella campagna francese e già questo è meraviglioso perché proprio da queste pagine secondo me si riesce a capire veramente come sono i francesi e qua vengono descritti in maniera non romanzata cioè sono proprio così questi paesini così un po' isolati dove tutti si conoscono dove tutti parlano dietro a tutti dove c'è quell'ironia sottile tipica dei francesi allora Ferdinand è un uomo anziano rimasto vedo nella sua fattoria una fattoria molto grande e sente tantissimo la solitudine cosa succede? succede che una sua vicina di casa che si chiama Marceline ha bisogno di aiuto ha bisogno di aiuto perché all'inizio sembra che lei si voglia suicidare con la canna del gas ma non è così era il gas che era stato il tubo del gas che era stato rosicchiato dai topi e quindi Ferdinand quando è andato a trovarla l'ha trovata tramortita ma perché il gas era fuoriuscito e quindi lei era così aveva perso un po' i sensi e da quella giornata praticamente i due pian piano cominciano a diventare amici cominciano a diventare amici arriva un brutto temporale la casa di Marceline che anche lei nasconde un segreto molto molto doloroso si allaga il tetto è rotto e quindi Ferdinand cerca di invitarla alla sua fattoria dopo un po' di difficoltà perché Marceline non vuole assolutamente andare Marceline si convince che quella al momento è la soluzione migliore non può stare nella sua casa tutta rotta tutta allagata e va da Ferdinand a quel punto lì cominciano una serie di situazioni che portano Ferdinand ad aprire la sua casa a vari personaggi che abitano nel paese e quindi lui non è più da solo diventa diciamo così un benefattore dove tutte le persone che vengono ospitate ovviamente la sua fattoria è molto grande hanno ognuno i suoi spazi non si pestano i piedi vanno d'accordo e capiscono che la forza del poter vivere bene è quella di vivere insieme e di aiutarsi l'uno con l'altro ma chi è Paulette? lo scoprirete veramente nelle ultime pagine un libro delizioso che parla di anziani che parla di amicizia che parla di persone che non vogliono stare soli che parla di amore che parla di famiglia un libro veramente veramente meraviglioso che io vi consiglio anche questo lo leggete in pochissimo tempo e vi lascerà una sensazione di benessere perché davvero lo stare soli è brutto e invece lo stare in compagnia lo stare con le persone sia amici ma anche degli amici che non sono amici ma che pian piano lo diventano imparare a convivere con i difetti delle altre persone come facciamo noi in tutte le famiglie un libro davvero dolcissimo proprio dolce se lo dovessi descrivere è un libro dolce romantico che è ricco di buoni propositi di buoni sentimenti un libro veramente veramente meraviglioso Barbara Costantin e poi Paulette insomma e poi vi lascio tutti i riferimenti chiaramente in infobox andate a vedere le infobox dei canali perché sono sempre ricchi di informazioni quindi magari qualcuno chiede ma dove l'hai preso sotto c'è tutto ultimo libro che ho letto e che mi è piaciuto ma è stato il primo che ho letto di tutta questa serie è di Carla Montero le donne di casa Verelli certe volte i viaggi iniziano nel modo più inaspettato allora di cosa parla Gianna è un architetto ed è cresciuta con sua nonna nel retrobottega della cucina dei fiori un negozio di gastronomia italiana nel famoso mercato a Barcellona la nonna muore e Gloria e scusate Gianna non Gloria Gianna e suo fratello devono decidere cosa fare del negozio la nonna ha lasciato a loro in eredità sia la casa che il negozio e proprio in quel momento lì Gianna scopre di essere incinta lei frequenta un uomo che è sposato un attore e qui cominciano alcune difficoltà e quasi per scappare a questa situazione che per lei è diventata insostenibile e pesante che cosa fa? fa un viaggio in Italia in Italia perché la nonna e tutta la sua famiglia era originaria della Liguria arriva in Liguria e tra le carte che lei scopre della nonna scoprono di avere di proprietà un mulino e da qui parte tutta la storia lei arriva al mulino arriva in questo piccolo paese e comincia a conoscere delle persone fa delle ricerche e anche qui c'è un'intensa storia di amicizia basata su un gruppo di donne un gruppo di donne che ha vissuto dei dolori molto forti dove ci sono state delle difficoltà ma che sono legate al passato di Gianna un libro un libro meraviglioso e anche qui c'è appunto la scrittura dove si parla del presente in un capitolo e dove invece si racconta la storia della bisnonna e poi chiaramente anche della nonna di Gianna un libro bello un libro forte che come sempre ci fa capire che l'amicizia tra donne è un legame forte è un legame che può sconvolgerti la vita ma soprattutto che il legame tra le donne soprattutto tra donne che hanno vissuto delle difficoltà e dei dolori è un legame che non si romperà mai e anche se sono persone comunque diverse tutte tra loro Gianna troverà la sua strada e capirà quello che vuole veramente nella vita e troverà anche l'amore un romanzo veramente veramente bello molto intenso molto ricco tutti questi romanzi non li ho scelti non li ho scelti in particolare per diciamo per un filo logico ecco ma mi sono ritrovata in tutti questi romanzi dove ci sono dei legami di amicizia molto forti dove l'amicizia è a volte la salvezza della nostra vita e io sono sicura perché l'ho provato sulla mia pelle che è veramente è veramente così cioè la solitudine ti fa cadere in un baratro bruttissimo ti fa vedere le cose ancora più brutte di quello che sono perché purtroppo le cose brutte nella vita capitano e capitano a tutti non c'è anche se sei un personaggio famoso anche se sei ricchissimo insomma nessuno purtroppo può scappare dalle vicissitudini della vita normale ma se hai accanto una persona amica che ti è amica davvero sicuramente il peso è diviso in due in tre in quattro in cinque bellissimi romanzi bene cosa mi porto in vacanza dai romanzi completamente diversi uno dall'altro allora di questo mi ha catturato il titolo lontano dalla vetta di donne felici e capre ribelli allora voi sapete un po' che Pietro che è il mio secondo genito è a Edole sta facendo l'università della montagna in questi due mesi estivi sta facendo un'esperienza in una malga dove è ospitato da due ragazzi molto giovani che hanno fatto questa scelta di vita e stanno appunto cominciando ad avere la loro azienda agricola con le capre le mucche insomma queste cose lui è su e fa un po' il pastore impara a fare il formaggio è contentissimo è in un posto isolatissimo giovedì andremo a trovarlo così vedrò bene dove è e la la storia vera appunto di questa scrittrice mi ha affascinato e vi leggo proprio le prime righe dove dice che c'è chi va in montagna in cerca del midollo della vita per sfuggire ai propri fantasmi e alle ansie metropolitane e chi come l'autrice ci si trova per caso sognava il caldo il mare e le spiagge del Mediterraneo ma un accadimento l'ha portata in una baita sulle Alpi a 1700 metri in un borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa lì ha scoperto grazie a un greggio di caprette un branco di lupi un'aquila e alcuni personaggi che sembrano usciti da una favola che si può condurre una vita più semplice e trovare forse la felicità nelle piccole cose ecco questo sicuramente me lo porterò in valigia secondo libro che ho comprato da tanti anni ma che non ho mai letto e adesso forse è arrivato il momento il libro che Nadia Toffa ci ha lasciato come eredità Fiorire d'inverno in questo libro lei racconta la sua malattia ma racconta anche la voglia di vivere al quale lei si è sempre aggrappata ci sono le sue testimonianze perché non l'ho mai letto perché avevo paura di soffrire ci sono momenti della vita in cui uno si sente più forte ed è capace di affrontare tutto ci sono momenti della vita in cui anche un fiore ti fa scendere qualche lacrima e adesso sono in un momento che mi piacerebbe sapere che cosa pensava della morte Nadia Toffa perché lei sapeva benissimo che poteva morire certo sia sempre la speranza di vivere ma vorrei proprio gustarmi queste sue testimonianze di vita di vita vera perché secondo me si riescono a capire alcuni valori della vita e alcune cose fondamentali della vita proprio e solo attraverso il dolore e quindi questo probabilmente spero di riuscire a leggerlo terzo libro che mi porterò o che comunque leggerò in queste vacanze è di Madeleine Sanjohn l'amica sfuggente ho già letto tutti gli altri romanzi di questa scrittrice ho sentito pareri contrastanti a me sono piaciuti tantissimo lei racconta sempre della figura della donna di una donna vincente soprattutto per il periodo in cui lei scrive è una scrittrice che è morta nel scusate nel 2006 è nata nel 1941 e aveva 64 anni quando è morta diciamo che il suo successo è avvenuto dopo la morte e questo romanzo francamente non so neanche di cosa parli ma siccome era di Madeleine Sanjohn io l'ho preso vi dirò poi alla fine non vi sto a leggere tutto il la seconda di copertina e la trama vi lascerò comunque il link ma poi vi dirò cosa ne penso altro libro che ho comprato due o tre anni fa ma che non ho ancora letto perché voi dovete sapere che ho tanti libri che ho comprato ma che non ho letto di Simona Toma mi chiamano Ada che cosa mi ha colpito di questo libro la copertina ovviamente ma poi mi ha colpito anche l'introduzione che dice Ada è nata ed è sempre vissuta a Lecce a 50 anni tutto sommato alla vita non ha molto da rimproverare un marito senza lavoro un esodato e consegnato al malumore della disoccupazione due anziane mezze matte in casa un figlio inconcludente e una figlia ambiziosa ma infelice che vuole diventare avvocato questo è il suo quadro familiare ma lei a dispetto del suo nome di battesimo addolorata non si piange addosso fa la donna delle pulizie e lo fa con passione è nata casalinga e le piace ha la semplicità del popolo ma anche la saggezza che deriva dall'abitudine a fare i conti con la vita tuttavia non è una donna senza sogni solo che i suoi sono sogni piccoli adeguati alla sua possibilità mi sembra la storia di una donna qualunque di una donna come potremmo essere noi tutti abbiamo avuto dei momenti di difficoltà nella vita chi più grossi chi meno grossi ma se si affrontano con allegria con gioia di vivere con la voglia di riscattarsi secondo me si ha una marcia in più non ho letto nessuna recensione di questo libro e mi sembra molto interessante e poi vi dirò come è andata la lettura bene io ho concluso vi auguro davvero di poter passare anche se non una vacanza nel senso che come vacanza si intende sempre lasciare la casa e andare da qualche altra parte ma purtroppo sappiamo benissimo che non è sempre così io come al solito so di essere fortunata di poter trascorrere qualche giorno con un gruppo di amici un gruppo di famiglie che da tanti anni passa le vacanze insieme ammortizziamo ovviamente anche i costi perché sono case in autogestione quindi ci cuciniamo noi facciamo tutto noi e questo sicuramente è un bene abbiamo imparato a convivere come Ferdinand nella sua fattoria con i difetti e con i pregi di ogni famiglia e di ogni persona abbiamo raggiunto un equilibrio e queste vacanze per noi sono veramente un balsamo che ci regala una sensazione di benessere dopo un anno di lavoro dopo un anno di difficoltà dopo un anno di malattie e quindi sono veramente contenta di poter partire e di godermi questi giorni in Val Pusteria a Rodengo spero davvero che ci siano delle belle giornate l'altro giorno ho detto che spero che piova ma perché i miei amici lo sanno che io non sono una camminatrice provetta o meglio cammino ma con i miei tempi e le mie modalità ma so già che saranno giorni davvero belli davvero ricchi giorni in cui faremo 50 aperitivi giorni in cui rideremo giorni in cui ognuno avrà magari voglia di starsene un po' per conto suo ma è giusto anche così e spero solo che appunto questa vacanza sia rigenerante e che mi dia la spinta poi per ripartire a settembre sempre più energica sempre più ricca di esperienze che poi mi accompagneranno durante l'anno questo lo auguro anche a voi e anche chi non ha la possibilità di poter andare in vacanza come luogo di villeggiatura spero che riesca a ritagliarsi qualche giornata qualche ora così spensierata magari anche viaggiando nei luoghi vicino a casa perché tante volte io sono la prima non apprezzo mai la mia città o i luoghi intorno a me perché non sono una turista ma sono una persona che ci abita ecco magari impariamo a cambiare lo sguardo impariamo a guardare con occhi diversi e io sono sicura che anche se non ci allontaneremo da casa riusciremo a trovare dei momenti di ristoro sia per l'anima e sia per il corpo e se poi proprio proprio volete viaggiare ci sono i libri lo sapete che io lo dico da sempre chi non può viaggiare come me io non ho viaggiato tantissimo nella mia vita può però viaggiare con la mente e con i sogni i libri sono uno strumento e un mezzo davvero grandissimo che ci fa sognare e che ci fa che ci trasporta in mondi diversi in tempi diversi in luoghi diversi io vi abbraccio tutti vi ringrazio di essere arrivati fino a qua vi ringrazio per il vostro sostegno in questi mesi il canale è cresciuto davvero tantissimo e io ne sono contentissima perché mi fate davvero tanta compagnia anche se sono solo io che parlo però nei commenti vedo che c'è appunto questo scambio tante persone davvero mi raccontano anche tante cose molto personali e questo per me è davvero un grande dono un grande dono perché anche se ci conosciamo soltanto attraverso il video vuol dire che si è instaurato un legame di amicizia che va al di là dei cosmetici che va al di là della recensione che va al di là della skin care che va al di là dei libri e di questo io sono veramente molto contenta e sono onorata appunto di queste confidenze che mi fate se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su se non siete ancora iscritti al canale se lo volete fare iscrivetevi che mi sostenete gratuitamente e ci rivediamo sicuramente nell'ultima settimana di agosto come vi ho detto probabilmente non sarò sui social perché mi voglio proprio godere questo momento di serenità e di vacanza con la mia famiglia e con tutti gli amici che vengono con noi io vi abbraccio e vi auguro davvero una bellissima estate grazie e a presto ciao